Adesso il turno di Giannotti La ricezione di From, fuori ai tre metri Jovic a servire Hirsch C'è la difesa di Giannotti che però è imprecisa a mandare la palla nel campo di Monza Poi di From, grande difesa di Balasso Poi Fedrizi per Giannotti decide di forzare E' andata a prenderla, a cercarla Più di frustrazione che di lettura Perché quella palla non andava attaccata così, diciamocelo Bravo lui naturalmente Bravo a prendersi questo rischio